Con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Castagnetto Carducci. Ribossi allontana e conclude la sua avventura di atleta con un abisso di vantaggio. Sembra non toccare terra. Maurice Bernardet su Paris Press scriverà il giorno dopo io potrò sempre gloriarmi di essere stato uno dei 120.700 spettatori che hanno potuto ammirare la più perfetta macchina da galoppo che mai si sia vista in un ippodromo. La Pisaniana, nuovo appuntamento, buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo all'interno di uno dei palazzi più belli, più suggestivi, più particolari e più degni di nota del Lungarno Pisano perché proprio qua ci sono tanti eventi e molto spesso vi abbiamo narrato attraverso le immagini quelle che sono le mostre, gli eventi culturali che vengono da anni ormai vissuti da tutta la città e non soltanto, da tante parti della nostra regione e dell'Italia. Arrivano a Pisa proprio per le mostre di Palazzo Blu e per gli eventi culturali di questo palazzo che è blu di nome e di fatto e del quale parleremo tra pochissimo. Voglio ricordarvi soltanto che è in corso, sono in corso, parlo al plurale, due mostre che sono diverse ma tutte e due assolutamente interessanti. Una ci porta negli anni venti nel mondo del grande surrealismo con opere che arrivano da Parigi, dal Saint-Tropp-Pompidou. Alcune delle opere più importanti della storia del surrealismo sono presenti qui a Palazzo Blu per le grandi mostre appunto di Palazzo Blu e l'altra mostra dedicata alla storia di Pisa degli anni 50 e anche di questo parleremo approfonditamente. Non voglio portarvi altro tempo perché accanto a me, alla mia sinistra, ho, come dire, il deus ex machina di queste attività di Palazzo Blu e della fondazione Palazzo Blu. Quindi ringrazio il presidente Cosimo Bracci-Torsi di essere anche stasera con noi. Presidente, buonasera. E' un evento importante quello di oggi che ci vede qui alla Pisaniana 5 anni insieme con Palazzo Blu perché ci sono stati dei festeggiamenti nello scorso ottobre, perché a ottobre si sono festeggiati 10 anni della fondazione Palazzo Blu e vogliamo aprire proprio così, prima di addentrarci nelle mostre appunto di cui aveva accennato poc'anzi, vogliamo parlare proprio di questo bel compleanno rotondo, i 10 anni della fondazione da lei presieduta. E insomma è un momento interessante. Sì, è un momento importante. Abbiamo festeggiato un compleanno, abbiamo cercato di festeggiarlo facendo partecipare a questa festa anche la città. Abbiamo fatto un incontro qui a Palazzo Blu con Filippo D'Averio e James Bradburn. D'Averio è credo conosciuto da tutti per la sua attività anche in televisione. Bradburn è il direttore di Brera, quindi è il direttore di uno dei più importanti musei italiani. E' stata presentata una pubblicazione molto snella e piacevole curata da Eleonora Mancini e poi abbiamo allargato la festa alla città attraverso l'illuminazione in blu dei suoi luoghi più tipici, prima di tutto il campanile, poi il ponte di mezzo e le logge di banchi, oltre naturalmente alla facciata del palazzo, che peraltro è già blu di suo e quindi non aveva bisogno di essere colorata. Ecco Presidente, questi dieci anni da lei seguiti in prima persona e fortemente evoluti in ogni aspetto, in ogni evento, quali sono i momenti che lei ha ben presente nella sua mente, i momenti più importanti di questi dieci anni? Beh direi forse uno è certamente stata la prima mostra autunnale che abbiamo fatto, quella su Chagall, perché non avevamo francamente la minima idea di che cosa poteva succedere e siamo rimasti sorpresi e travolti dalle code davanti a palazzo, che era una cosa che a Pisa credo non si fosse mai vista davanti a un museo francamente. Lei si è accorto in quel momento che l'arte del Novecento, che voi avete tanto in qualche modo valorizzato attraverso le vostre esposizioni, esibizioni, mancava in qualche modo qui a Pisa? Beh sì, è stata una scelta che qualcuno ha definito temeraria e che poi invece credo si sia dimostrata giusta. Abbiamo pensato che Pisa è oltretutto una città giovane, di giorno in particolare, la presenza di una quantità di studenti che vengono da tutta la Toscana abbassa notevolmente l'età media, ma alza anche il livello culturale della città. Pisa non aveva una tradizione di mostre di arte contemporanea o comunque moderna, novecentesca perché il patrimonio artistico di Pisa si ferma purtroppo molto più lontano nel passato. E abbiamo pensato che un filone di mostre sulle grandi figure della pittura novecentesca potesse essere interessante e nello stesso tempo anche garantirci una continuità di attività. Ricordiamone alcune perché io personalmente le ho viste molte ma ci sono veramente stati alcuni eventi epocali. Io ricorderei alcuni sono, non so, Kandinsky per esempio, Kandinsky, Rorol e Modigliani, anche perché da questo punto di vista mi permette di ricordare un altro aspetto di queste mostre. Non abbiamo puntato, io ritengo che mostre grandi monografiche su questi autori le possono fare solo a Londra o a New York o a Parigi, nemmeno a Roma e Milano. Quindi per fare delle mostre che avessero un contenuto scientifico-culturale adeguato, ma che fossero nelle nostre possibilità, abbiamo scelto la collaborazione delle massime istituzioni di questo settore come il Sontro Pompidou o il Museo di Stato di San Pietroburgo o la fondazione di Gala e Salvador Dalì. Per la grande mostra di Dalì, una delle più recenti. Però abbiamo sempre, il tema della mostra è sempre stato un aspetto particolare o un momento particolare dell'opera. Ricordiamo anche Escher, curiosissima, quella mostra, voglio ricordare anche quella abbastanza recente. Beh sì, Escher è stata indubbiamente una sorpresa anche questo, soprattutto una sorpresa perché abbiamo visto un notevolissimo abbassamento dell'età media dei visitatori. Assolutamente. Questo è stato un altro elemento molto positivo. Allora, tra poco parliamo un po' di tutto il Palazzo Blu, perché non ci concentriamo soltanto sul primo piano, sul piano terra, quello della mostra. Vediamo un po' di scoprirlo, di fare un viaggio ideale all'interno del palazzo insieme al presidente Bracci Torti. Prima ascoltiamo però le parole di, l'ha nominato lui, Filippo D'Averio, presente giorni fa proprio per la festa, per il decennale della fondazione Palazzo Blu. Sentiamo Filippo D'Averio su Pisa. È una battuta sulla mostra, su Palazzo Blu e su Pisa? No, su Pisa tolgo la parte di animo fiorentino e cambio verso quello mare in mano, quindi vendono le cose in modo diverso. Pende ma non cade. No? Ti diceva di San Pietro. Come tutta l'Italia, è il simbolo dell'italianità pura. No, anche una cosa molto bella. Tra l'altro siamo in un edificio che è particolarmente interessante, perché è un pezzo di San Pietroburgo a Pisa, questo fu costruito allora per un rapporto diretto con il mondo internazionale che era quello che è legato a Pisa, con il mondo dello Tsar. E la cosa divertente è che con un intuito, che è ancora tutto da scoprire, ha i colori di San Pietroburgo. È blu, cioè come tutta San Pietroburgo. Un blu un po' diverso, perché è un blu più indaco che... Siamo italiani. Perché siamo italiani, no, perché... Qui non si può mai dire siamo italiani. Qui fino a poco tempo fa si era pisani, poi dopo si è diventati recentemente toscani, un po' di secoli fa, e proprio ieri mattina italiani. Quindi va guardato con attenzione proprio la tipologia caratteriale dei luoghi e anche la sua storia. Questo è un accumulo strepitoso, storico. E forse anche la nascita di istituzioni che servono a definire in un qualche modo anche un servizio di carattere alle città come questo museo, può dare una mano in più a comunicare la questione. Allora, questo palazzo che ricorda San Pietroburgo, dice D'Averio. Dunque, chi entra? Parliamo tutta la Toscana ovviamente, quindi ricordiamo che ci sono alcune persone che sicuramente ancora devono scoprire Palazzo Blu. E allora è un invito che facciamo anche a scoprire tutti gli aspetti di questo bellissimo palazzo sull'Ungarno Pisano, sull'Ungarno Gambacorti. Come possiamo dividere i vari volti di questo palazzo? Il palazzo ha, prima di tutto, uno spazio dedicato all'esposizione permanente della collezione della Fondazione Pisa. Una collezione di opere d'arte e di testimonianze. Di grande pregio, tra l'altro. Di grande pregio, però legate alla città e al territorio attraverso l'autore, il tema o il committente di queste opere. Quindi sono tutte opere che hanno un legame con la città. Ecco, la domanda, mi scusi veloce, questa acquisizione delle opere risale al periodo antecedente quando c'era la Fondazione Pisa che raccoglieva anche una delle sue finalità, era anche questa? Beh, queste opere risalgono in parte addirittura alla Cassa di Risparmio di Pisa, quindi alcune opere sono state probabilmente acquisite attraverso la compensazione di crediti non esigibili in altra via. La Fondazione Pisa ha poi continuato ad arricchire questa collezione. Per esempio le opere che abbiamo alle nostre spalle sono state acquisite dalla Fondazione Pisa, come molte altre opere importanti, che so, per esempio di Artemisia Gentileschi o di Orazio Gentileschi, sono state acquisite dalla Fondazione Pisa. Quindi è una collezione che ha anche una forte valenza identitaria per la città, come tutto il palazzo in definitiva, perché visitando il palazzo uno si rende conto anche un po' di quale è stata la storia di questa città. Dalle fondamenta, giù al piano sotterraneo, fino al piano nobiliare in cui ancora ci sono i ricordi di una famiglia che ha vissuto in città. Assolutamente, questo piano è il piano dal ricevimento, come una volta si diceva, di un palazzo signorile della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Qui c'è una parte, un angolo del salone. La musica, c'è una bellissima sala da pranzo che è integra così come è stata progettata alla fine dell'Ottocento, quindi da questo punto di vista ha una valenza particolare. Abbiamo cercato anche di rafforzare l'importanza di questa offerta, cercando di mettersi, questo l'abbiamo fatto un po' dappertutto, anche nelle mostre temporanee, cercando di mettersi dalla parte del visitatore. Molto spesso nei musei e nelle mostre ci si preoccupa più dei gusti e degli interessi di chi li fa rispetto ai gusti e gli interessi di chi li va a visitare. Noi abbiamo cercato di metterci il più possibile, sperando di non sbagliare, nelle necessità del visitatore medio. Un percorso davvero incredibile, quello all'interno di Palazzo Blu. Ricordiamo che contemporaneamente alla mostra da Magritte Deschamps, 1929, il grande surrealismo, potete perdervi veramente, anche in maniera divertente aggiungo, fra le fotografie di un archivio, l'archivio è quello del fotografo famoso, fotografo pisano Luciano Frassi, in quella che è la mostra Pisa negli anni 50, gli anni 50 a Pisa per la precisione, questo è il titolo della mostra che è ancora in corso, avete modo dunque di vedere una parte di questo enorme archivio che ha permesso di realizzare tante mostre, ne parliamo tra poco, quindi andiamo da ora in poi per un po' di tempo con il nostro programma La Pisaniana nella Pisa degli anni 50, quindi la ricostruzione dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale e lo facciamo anche attraverso alcuni scorci della città con un architetto, l'architetto Marco Pasqualetti che ci mostra proprio alcuni scorci e ci racconta la storia dal dopoguerra in poi. Andiamo con questo filmato alla cittadella di Pisa. Buonasera agli amici di Palazzo Blu, la ragione per cui siamo in questo luogo non è casuale, questa forse non molti pisani lo sanno, era la via di accesso al ponte della cittadella prima della guerra, poiché all'interno del quadrilato della Terzana c'era una caserma militare, la caserma del settimo reggimento artiglieria, per cui non era possibile accedere, contrariamente a quello che avviene oggi con la strada di attraversamento realizzata attraverso la breccia nelle mura urbane. Descriviamo che cosa c'era in quest'area prima della guerra e quindi prima dei bombardamenti. Abbiamo accennato un attimo fa alla presenza qui in questo luogo della Terzana, della caserma del settimo reggimento artiglieria, passato alle croniche della storia per aver aiutato bersaglieri a realizzare la breccia di Porta Pia. Era una caserma fatta da una decina di fabbricati con tutto intorno un porticato che racchiudeva una grandissima piazza d'arri. I bombardamenti della città degli anni 43-44 interessarono ovviamente anche quest'area insieme al ponte, insieme alla Torre Guerfa e tutta un'altra serie di edifici. La caserma fu danneggiata, ma non al punto tale da dover essere poi totalmente sostituita. Tant'è vero che iniziarono anche i lavori di restauro per poter ripristinare l'attività militare, ma il demanio militare decise diversamente e trasferì la caserma al di là della ferrovia. In questo luogo vi realizzò un progetto piuttosto interessante per l'epoca l'architetto Giovanni Michelucci, un progetto però mai portato a compimento. I lavori iniziarono nel 1958 e prevedevano un centro studi galileano, un edificio per il genere civile e un grande teatro all'aperto, ma dopo pochi anni i lavori, come abbiamo detto prima, si fermarono e per decenni quest'area, i pisani se lo ricorderanno certamente, è stata abbandonata a se stessa, meta di feste dei partiti degli anni 70, dei circhi di passaggio o dei concerti rock nelle stati recenti. Una decina di anni fa il comune ha acquistato tutta l'area dal demanio perché era ancora del demanio militare fino al 2009 per fare che cosa? Per restaurare gli antichi ruderi che erano rimasti a livello di ruderi degli arsenali repubblicani. Attraverso i fondi regionali ed europei del Pius sono stati restaurati gli arsenali e hanno assunto la forma che vediamo oggi che dovrebbe essere quella che era nel XIV secolo quando furono costruiti. Il piano di ricostruzione per quest'area in realtà prevedeva una serie di palazzine, una ricostruzione di uno strumento urbanistico realizzato, redatto immediatamente subito dopo la guerra per far fronte alle esigenze di ricostruzione, prevedeva una serie di palazzine ma queste non furono realizzate. Qual è l'auspicio per il futuro? È quello di poter realizzare un grande parco urbano, già gli strumenti urbanistici dell'amministrazione comunale oggi lo prevedono, affinché si possa ritornare quest'area alla cittadinanza facendo che cosa? Auspicando una chiusura della breccia che vediamo laggiù e il trasferimento della strada che oggi taglia in due quest'area nel luogo dove eravamo un attimo fa, quindi lungo l'Arno. Qui ci sono ovviamente studi, proposte, progetti che sono nei cassetti dell'amministrazione comunale, sta poi all'amministrazione comunale, questo a quelle future, di prendere decisioni in merito a questa area che comunque è importantissima e strategica per tutta la nostra città. Per magia il nostro salotto qui alla Pizzaniana si è arricchito di due persone che sono fondamentali per una parte delle mostre di Palazzo Blu, ovvero alla mia destra Stefano Renzoni, professor Renzoni, docente al liceo classico Galilei di Pisa e curatore appunto dicevamo di molte mostre che sono state realizzate al Blu e Giuseppe Meucci, grande amico della Pizzaniana, decano del giornalismo pisano, dalla Nazione al Corriere della Sera, autore di libri e soprattutto testimone di tanti aspetti della vita di Pisa. Buonasera e grazie di essere qui a tutti e due. Allora, il merito, il grande merito che avete in questo contesto è anche quello di rendere omaggio all'archivio di Luciano Frassi, ne avevamo già parlato in occasione di una puntata della Pizzaniana dedicata all'alluvione, all'anniversario dell'alluvione, prima Meucci e poi Renzoni, gestitevi voi come volete, col microfono magari eccolo qua. Dunque, Luciano Frassi, due parole per ricordare questo, senza di lui, ecco, non potremmo fare questa amministrazione. È stato un grande fotoreporter a Pisa che ha documentato la vita della città in 50 anni, lui era il fotografo della Nazione, era sempre presente, andava dappertutto, era anche una figura notissima in città perché girava sempre con una vespa e con sei o sette rolleiflex attaccate alle braccia e al collo perché la rolleiflex, avendo un rotolino da 12 scatti, doveva essere ricaricata spesso, per cui lui per coprire tutti gli eventi e non perdere mai uno scatto, era una figura caratteristica a Pisa. L'archivio Frassi è per fortuna di proprietà della Fondazione Pisa, è assegnato in uso a Palazzo Gruppo. Ecco, ma quante sono le immagini in totale? Ah, migliaia, 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 e allora alcune centinaia di migliaia, dice il Presidente. Gli anni 50 a Pisa è soltanto una delle mostre che sono state realizzate, dicevamo, grazie a questo archivio. Insieme Meucci e Renzoni hanno curato Surpresi dai Miracoli, che è un titolo meraviglioso di una mostra che era dedicata a personaggi famosi, noti, nella zona di Piazza dei Miracoli, naturalmente. 4 novembre 1966, il ricordo dell'alluvione. Il 68, grande successo, ha avuto la mostra che ha preceduto anni 50 e poi immagino ci saranno anche altre mostre magari sugli anni successivi, i decenni successivi. I decenni successivi. Allora, come avete pensato di dividere tutte queste immagini sugli anni 50? Ma noi abbiamo dovuto resistere alla grossa tentazione di fare una mostra impostata all'80% sul Pisa Comera, dal punto di vista urbanistico e architettonico, perché ci sono delle immagini straordinarie di una Pisa reduce dai bombadamenti aerei, reduce dalla guerra mondiale, non ancora perfettamente ricostruita, anzi in alcuni casi assolutamente ancora non ricostruita. E quindi noi abbiamo dovuto resistere alla tentazione di impostare la mostra su questo. Occupa gran parte, ma non tutta la mostra. E secondo me è stata un'idea vincente, perché la singolarità di questa mostra è che è davvero curiosa per gli altri aspetti, perché proprio si annusa da queste immagini l'entusiasmo che ritorna fra la gente. Sbaglio? Sì, no, no, è vero. Però ecco il fatto dei… I costumi, i modi di vivere. I costumi, i modi di vita, il fatto di riconsegnarsi una vita che fosse più o meno normale, ma si pensava alla vita nelle colonie, per esempio. La vita delle colonie. Eppure anche alcune persone, Miss Pisa, ecco Miss Marina, ci sono state delle manifestazioni molto interessanti. Poi dopo nella seconda parte ne parliamo di tanti aspetti su questa cosa, parliamo anche del mare, di Tirrenia, di tutta quella parte lì, del, come veniva chiamato, il mezzo che portava ai pisani… Il trammino, il trammino di Marina, il famoso trammino. Poi parliamo anche di quello. Adesso torniamo ai nostri video, perché naturalmente c'è anche l'aspetto sportivo che riprende vita, e questo è un altro aspetto su cui avete puntato tanto. Il calcio, diciamo di no, a Pisa, ma il grande momento è quello dell'Ippica con Ribot. Andiamo a sentire su questo Renzo Castelli, che è il capo ufficio stampa dell'Ippodromo di San Rossore, di Alfea, la società che lo gestisce, e poi ci ritroviamo. L'Alfea si ricostituì subito nel 1946 con un gruppo di appassionati. La prima giornata di corse fu il 2 gennaio del 2 febbraio del 1947, prima giornata di corse che è dopo guerra. Gli anni 50 furono anni eroici, perché a noi non va dimenticato che sono gli anni di Ribot. Ribot che era a svernare qui con la scuderia di Tesio, la razza ormella olgiata, era molto chiacchierato il cavallo perché a due anni aveva vinto tre corse a Milano, compreso il gran criterio, ma quando si presentò quel giorno a Pisa, il 4 aprile del 1955, quattro partenti vinse di 100 metri. Quindi diciamo che gli anni 50 si collegano al nome di Ribot. Però ci sono anche tante altre cose, per esempio negli anni 50 furono fatte le tribune, anzi furono fatte le tribune. Prima c'erano delle tribunette quadrate, abbastanza miserelle, allora questa costruzione che oggi ormai è sorpassata, sembrò all'avanguardia, c'entravano 4-5 mila persone. Era il senso della ricostruzione di quegli anni. All'Ippodemo si veniva in bicicletta, perché con il pulmo in bicicletta, io venivo in bicicletta, quando cominciavo a venire all'Ippodemo nel 1953 avevo 16 anni, la biglietteria era al Ponte delle Trombe, c'era un agarito dove si comprava il biglietto, noi ragazzi si entrava tutti al prato, perché qui al parterre costava troppo, al centro dove c'è il ristorante c'era il totalizzatore e le corse erano di pochi cavalli. Onestamente guardavo l'altro giorno le iscrizioni erano 10-12 cavalli, oggi in ogni corsa sono iscritti circa 300 cavalli. Pensate che differenza diciamo di popolazione quina, però allora c'era un clima tale di, sarà che avevo 16 anni, quindi c'era una tale voglia di vivere per cui veniva all'Ippodemo la domenica c'era o il Pisa o le corse. Consideriamo che il Pisa degli anni 50 aveva avuto la più brutta caduta della sua storia, era data fine in promozione, la prima partita di quel campionato fu fatta a Marina, Marina di Pisa, quindi si giocava con Forcoli, quindi mentre il Pisa sprofondava e poi riscorrì, ricomincerà a salire, alle corse era il momento dell'apoteosi Corribò. Eccoci qua. Tra l'altro, parlo con Giuseppe Miucci, è il grande momento per l'ippodromo e dell'equitazione in generale, anche grazie a un personaggio, a un pisano che era diventato famoso in TV e la TV allora la si vedeva nei locali, anche a Pisa, per l'Ascerra Doppia. Non durò molto mi sembra, ma fu famoso. Sì, durò tre settimane. Come si chiamava? Si chiamava Ferruccio Gemignani, era un esperto di Ippica, sapeva tutto. E c'è una foto di lui che arriva col treno? C'è una foto di lui che arriva col treno e ci sono delle foto bellissime perché non tutti avevano la televisione in casa in quegli anni, anzi erano pochi. Per cui la gente andava a vederlo nei bar. C'è quest'altra foto appunto di Frassi, del caffè Volpi su Lungano dove la gente era talmente rapita dalle immagini e soprattutto numerosa che aveva invaso la strada e bloccato il traffico. Purtroppo Ferruccio Gemignani non ebbe fortuna perché la terza puntata che c'è una domanda, la domanda che aveva vinto un premio in Germania, lui rispose del cavallo Niccolò dell'Arca e Mike Bongiorno disse, ah peccato, peccato, si chiamava Tofanella e su Tofanella il povero Gemignani cade, però è rimasto un personaggio a Pisa famoso, insomma molto simpatico, fu accolto con grandi festeggiamenti quando ritornò alla stazione. E allora, queste altre curiosità tra poco, sempre nella nostra Pisagnana dove parliamo ancora degli anni 50 a Pisa, che è una delle mostre qui al Blu su Lungarno Gambacorti a Pisa, ma di Palazzo Blu e della mostra da Magritte Duchamp parleremo più tardi, adesso però andiamo come sempre nel nostro ristorante e oggi torniamo alla Buca di San Ranieri dove ci aspettano insieme Gianfranco Scarpellini e Tullio Caula, allora Gianfranco a te la parola. Ciao Carlotta e tutti gli amici del Palazzo Blu, stasera all'interno della Buca di San Ranieri andremo a fare un piatto di pesce, lo chiamiamo il turbante di orata alla marinese, ora ti passo la parola al mio chef Tullio Caula. Vai, bene, ora vi faccio vedere come si crea questo piatto, allora prima di tutto si sfilettano le orate. Ecco. Allora Ecco fatto Dopodiché Si unge in uno stampino di alluminio Con un filo d'olio Si mettono i filetti dorata Giro giro Con dei totani tagliati a striscioline E una coda di gambero Messa per intero Così Poi ancora totani Fino a riempire lo stampino Ecco Si aggiunge un poco di pressemolo Un poco di sale Ecco fatto Ora questo viene infornato A 180 gradi Per 15 minuti Prego Mettono forno Grazie a tutti Ben ritrovati con la Pisaniana, siamo qui all'interno di Palazzo Blu e parliamo di una delle mostre che potete ancora visitare fino a marzo, una delle mostre dedicate a questo archivio immenso che è stato rilevato negli anni dalla fondazione Palazzo Blu, l'archivio di Luciano Frassi e questa mostra dedicata alla Pisa degli anni 50. Allora sul libro che è stato proprio edito, è stato curato da voi insieme appunto da Giuseppe Meucci e da Stefano Renzoni ed edito da Pacini, gli anni 50 immagini di un decennio a Pisa mi soffermo proprio sulla copertina perché è davvero una delle immagini più divertenti che vediamo in quella Pisa degli anni 50 che si lasciava alle spalle brutti ricordi della seconda guerra mondiale. La Befana del Vigile Urbano. La Befana del Vigile Urbano, sì, è la foto che abbiamo scelto per riassumere gli anni 50, che sono anni lontani. Ma perdonami, la Befana del Vigile Urbano è qualcosa proprio degli anni 50 che si conclude con quegli anni oppure c'era anche prima e poi dopo? No, prima c'era la guerra e nel dopoguerra insomma c'era poca disponibilità. Prima della seconda guerra mondiale non c'era? No, no, no. Fu una tradizione che prese corpo negli anni 50. E che non c'era traffico giustamente. Per cui ecco è curiosa questa immagine del Vigile Urbano che era un personaggio anche molto famoso a Pisa. Famosso anche nel cinema, dobbiamo dire, in quegli anni il Vigile Urbano. Sì, sì, sì. E lui stava sul podio in ponte di mezzo, dirigeva il traffico e gli automobilisti portavano i regali, fiaschi di vino, panettoni, cavallucci. Nella foto si vede benissimo c'è anche qualcuno che ha portato due bombole di gas da cucinare. Cioè tutto fa, tutto fa. Questa è la foto che abbiamo scelto perché è molto curiosa. Dà l'idea del gran tempo trascorso, se si pensa a oggi, che gli automobilisti portano regali a Vigile Urbani. Veramente si parla di preistoria. Allora, mentre parliamo di questa Pisa che tornava a dimenticare i brutti ricordi e a sperare, ci avviciniamo anche agli anni 60, quelli insomma delle grandi speranze per il nostro paese e anche per la città di Pisa. Parliamo di ricostruzione anche con aspetti che hanno lasciato molte persone perplesse in città a Pisa, la ricostruzione post bellica. E parliamo anche di luoghi a Pisa dove ancora oggi non è stato ricostruito un palazzo per esempio in particolare. Andiamo a rivederlo insieme all'architetto Mario Pasqualetti e poi ci ritroviamo qui, vorrei dire in studio ma non siamo in studio, siamo in un bellissimo salotto all'interno di Palazzo Blu. Siamo in un luogo simbolo della città, in realtà dietro di me c'è l'ultimo rudere bellico, un rudere che ancora stenta a essere ricostruito per ragioni di inerzia della proprietà, più volte sollecitata a ricostruire ma fino ad oggi assente. Prima della guerra c'era un edificato continuo non fino all'angolo di via Bovio, paradossalmente l'edificio di color mattone non c'era, è stato ricostruito negli anni 60 su uno strumento urbanistico nuovo. C'erano i cosiddetti tre palazzi e all'angolo c'era la regia Questura, è stato tutto ricostruito meno questo tratto. Recentemente alcuni intellettuali hanno avanzato l'ipotesi di lasciare questo rudere a monito della guerra e realizzare un varco per fare poi un giardino pubblico che va a finire nel Vallo del Sangallo. Bene, siamo sul versante di Tramontana e da questo posto si possono notare i ponti della città, il ponte di mezzo, ovviamente anche esso fu purtroppo bombardato, anzi minato dai tedeschi, ritirato durante la guerra e poi ricostruito però in pochissimi anni, nelle forme che vediamo adesso, ed è, devo dire, il ponte che ha acquisito la maggior dignità della città, realizzato sul disegno dell'architetto Bellucci dall'ingegnere Giulio Kral, nel 50 era già terminato, contrariamente al ponte della Fortezza invece che è realizzato, finito, completato soltanto negli anni 60, un ponte più banale, più semplice, di meno importanza, che è andato a sostituire un bellissimo ponte della Fortezza che era a Quarto Arcate. Da qui si può notare anche tutto il versante dell'Ungarno Mediceo con le distruzioni operate durante la guerra, le più importanti distruzioni effettivamente avvennero qui. Si tratta di sette edifici che sono stati ricostruiti nel dopoguerra, i primi due vicino a Piazza Garibaldi e poi gli altri dopo Piazza della Berlina. Salta subito agli occhi il fatto che gli edifici di ricostruzione non hanno nulla a che vedere con gli edifici che c'erano prima della guerra, sia per cromatismi, sia per masse volumetriche, sia per l'impaginazione del prospetto e sia per altezza soprattutto. Le maggiori critiche le ha segnalate il professore Emilia Tolaini nel suo fondamentale testo di storia urbanistica della città di Pisa, forma Pizarum, che critica fortemente questa ricostruzione. Devo dire che agli occhi di oggi forse, e vedendo le fotografie dell'epoca, forse molti di questi edifici avrebbero potuto essere restaurati. Ma bisogna forse calarsi nello spirito del momento, dell'epoca in cui non era ammissibile ricostruire dove era, com'era, non era concepibile e quindi si andava incontro ad esigenze diverse, realizzazioni di cemento armato, nuove, e quindi i progettisti pisani, alcuni anche di fama, come l'ingegner Pera, che ha realizzato l'edificio d'angolo su Piazza Garibaldi, e anche l'edificio, il Palazzo del Rosso, qui nel mezzo, hanno contribuito comunque a realizzare questo scorcio dell'ungarno. A distanza di oltre 70 anni, onestamente dobbiamo dire che bene o male la bellezza di questo lungarno ha in qualche modo riassorbito queste brutture, sia per l'anza del fiume e poi anche per la luce spettacolare che quotidianamente colpisce questa parte della nostra città. Pisa anni 50, magari anche aspetti delle ristrutturazioni, c'era chi bubava e diceva qualcosa, è vero Renzoni? Una parola al volo su questo. Sulle ristrutturazioni sì, soprattutto perché molti edifici che erano susciti dalla guerra mondiale, ancora abbastanza integri, in realtà sono stati distrutti, sono stati letteralmente trasformati, e questa è ancora una ferita apertissima nella storia della città di Pisa, insomma. Bene, insomma, bene per modo di dire. Voleva aggiungere qualcosa il Presidente Braccitotti su questa mostra? Sì, voleva aggiungere solo questo. Una mostra che mi ha divertito e anche quasi commosso, perché mi ha ricordato degli anni lontani che ho vissuto abbastanza intensamente. Quali sono le foto che l'hanno colpita di più di questi anni 50 pisani? Sì, è proprio vedere la città, ma vederla nel senso di specchio di quello che era il cambiamento della vita, non soltanto di Pisa, perché si vede la motorizzazione, si vede l'arrivo della televisione, si vede il cambiamento del modo di vivere. Le vacanze al mare. Le vacanze al mare. Ma ci sono ancora elementi, si vede la rotina sulla bicicletta con la ruota e si cominciano a vedere degli elementi di modernità, così come si vedono avvenimenti straordinari, dal Camp Darby, l'inaugurazione di Camp Darby, all'arrivo dei profughi ungheresi nel 1956, nella repressione russa. rivolta con Chierese. Quindi non è soltanto una cronaca della città, ma attraverso la cornice che fa, che la rende familiare, si vede che cos'è successo nel mondo. A questo proposito tanti personaggi politici che passano da qua. Gronchi, voglio dire, era di casa. Gronchi era praticamente di casa, infatti c'è spesso. Tra l'altro c'è una meravigliosa fotografia, dove si vede Gronchi davanti al domo di Pisa e tutti i prelati e i canonici della cattedrale vanno intorno a lui e lasciano da parte un personaggio che sta quasi per uscire dall'inquadratura della fotografia, un personaggio che evidentemente non contava granché. Questo personaggio era il patriarca di Venezia, Roncalli, destinato di lì a poco a diventare appunto Papa Giovanni XXIII. Ed è buffa come questa fotografia riesca a rapire un aspetto e come cambiano anche le glorie. Quella è una delle fotografie più impressionanti proprio della mostra. Allora, tante foto del nostro Frassi dedicate al mondo universitario. Quindi questo mondo che è uno dei volti più importanti della città. Tanti giovani. Quel cinema che, insomma, la pisorno cinematografica esisteva già nel periodo fascista e quindi viene in qualche modo rinnovata la tradizione di questa zona, la zona più vicina al mare, come set cinematografico. Addirittura fu fatto un film proprio dedicato alla goliardia con Franco Fabrizzi, se non mi sbaglio, Antonio Cifariello. Franco Fabrizzi, Antonio Cifariello. C'era anche una partecipazione di De Sica. De Sica addirittura. Insomma, questa goliardia aveva casa a Pisa. Certo. Gli anni 50 sono anche la rinascita della goliardia a Pisa e soprattutto delle operette goliardiche che venivano fatte al Teatro Verdi. Ce ne sono alcune che sono celebri, che sono state ripetute negli anni, non sto a nominarle perché erano diverse, e fatte tutte con personaggi poi pisani, che poi sono diventati medici, avvocati, noti in città. Certo, una grande cura dunque nel... Sì. Certo, però ecco, io devo dire l'aspetto ricostruito sia nel catalogo che nella mostra della vita universitaria, c'è un evento che è caratteristico degli anni 50. Negli anni 50 nasce una delle branche della ricerca pisana più interessanti e che ha avuto maggiori sviluppi, l'informatica. L'informatica di Pisa. scritta allora al Rettore Avanzi che gli suggerì, poco prima di morire, fermi dopo poco morì, gli suggerì di utilizzare dei finanziamenti per costruire un calcolatore elettronico. Lì e disse una cosa, costruire, non acquistare, perché ovviamente dicendo costruire presupponeva anche l'avvio di una ricerca che poi ha portato anche a fare di Pisa. Si è fatta la storia con questo. Certo, una delle capitali dell'informatica italiana. Il famoso CEPPO, ovvero la calcolatrice elettronica pisana. Dunque, questo è importantissimo, ha fatto bene Meucci a ricordarcelo perché è il primo passo verso il mondo della ricerca per cui Pisa è famosa nel mondo. Vorrei parlare però anche, tornando alle cose più leggere, leggere si fa per dire, delle grandi tradizioni, le tradizioni della popolazione pisana, dal palio di San Ranieri al gioco del ponte, anche questo viene naturalmente nell'archivio di frassi dopo la... Nelle manifestazioni pubbliche direi che ci sono due aspetti abbastanza interessanti. Uno, direi, più scontato forse, che è il grande successo della ripresa del gioco del ponte. Ci sono alcune foto molto belle, molto belle anche perché poi sono incondiciate da alcuni palazzi con la costruzione, come il Plazzo Pretorio, per esempio, o anche il Plazzo Gambacorti, che fa da sfondo, è uno sfondo piuttosto triste, proprio perché i palazzi non erano ancora stati ricostruiti. Ma un altro aspetto, oltre al gioco del ponte, delle manifestazioni pubbliche che forse merita interesse, è l'incredibile partecipazione popolare alle festività religiose. Ci sono delle piazze dei cavalieri assolutamente piene di persone, di fedeli, e appunto noi, mentre facciamo questa mostra, commentavamo molto poco, piamente, piuttosto laicamente, appunto noi commentavamo che oggi certe manifestazioni vedrebbero una partecipazione molto più modesta. Eh sì, molto più modesta. Perché era proprio una partecipazione di popolo straordinaria. Cosa che non si può dire per il gioco del ponte che è rimasto vivo nella tradizione tuttora. Allora andiamo a parlare proprio del gioco del ponte con Umberto Moschini del gioco del ponte, cioè associazione che è dedicata proprio alla valorizzazione del gioco del ponte e ascoltiamo le sue parole. Buonasera amici di Palazzo Blu. Vi parlo del gioco del ponte, questa grande manifestazione che in modo scenografico rappresenta la gloria e la grandezza di Pisa. Qui siamo alle spalle al ponte nuovo, però questo fu fatto nel 1950, quindi il primo gioco del ponte fu fatto sul ponte vecchio che voi vedete e fu fatto nel 1935, nel 1937 e nel 1938. Poi durante la guerra fu fermato. Subito dopo la guerra, nel 1947, benché non ci fosse il ponte di mezzo, il sindaco Bargagna, quasi come un auspicio per la città di Pisa, lo fece fare e fu fatto all'arena Garibaldi. Purtroppo non finì perché sul ponte, essendo fatto di legno, si spezzò e quindi non fu dato pace. Non ci fu né vinti né vincitori. Invece dal 1950 fino al 1963 fu disputato sul nuovo ponte e furono le alterne vicende grazie a questo all'impegno dei sindaci che si sono susseguiti e soprattutto di Ferruccio Giovannini che è lo storico cancelliere generale, fu quello che l'ha portato avanti e l'ha sempre sviluppato. Poi ci fu questa interruzione per vari motivi e finalmente però nel 1983 riprese il gioco e quindi si ricominciò ogni ultima domenica di giugno e poi dopo invece ogni ultimo domenica l'ultimo sabato di giugno fare questa grande festa di Pisa, questa esaltazione di Pisa grande è come dicono qualche di uno Pisa che è immortale nei secoli e perché il gioco del ponte rappresenta la sintesi della sua gloria e della sua grandezza e questo è l'auspicio che il gioco del ponte manda a Pisa. Il gioco del ponte ma naturalmente tornando alla ricostruzione della città post bellica beh insomma una delle zone più disastrate come succede sempre in guerra è quella intorno alla stazione e allora insieme all'architetto Pasqualetti andiamo proprio a vedere come con quali criteri è stata ricostruita la zona della stazione centrale di Piazza Vittorio Benissimo siamo in Piazza Vittorio Emanuele e esisteva ovviamente anche prima la guerra in forme totalmente diverse fate conto che intorno alla statua c'è una grande aiuola verde peraltro solcata dalla linea ferro-tranvieria esistevano già i due edifici sia delle poste che della provincia realizzati in epoche diverse dall'ingegner Federico Severini un progettista pisano abbastanza famoso lo scenario che vediamo adesso però era leggermente diverso cioè la stazione era soltanto le ali erano ad un piano sopra il porticato c'era soltanto un piano e si vedeva da qui una grande struttura voltata in acciaio e vetro similmente alle strutture che ci sono alla stazione di Milano centrale ovviamente realizzata e fatta per far evacuare i fumi delle macchine a vapore che all'epoca entravano nella stazione centrale ai lati della stazione in quello che era all'epoca il viale Principe Amedeo c'erano due cortine di edifici di tre quattro piani non di più con ben quattro alberghi la situazione ovviamente con i bombardamenti muta radicalmente tutta la zona che vediamo fu totalmente distrutta molto danneggiati furono anche i due edifici delle poste e dell'amministrazione provinciale che furono ovviamente restaurati delle forme che vediamo adesso mentre il piano di ricostruzione prevede per queste due ali di intorno a quello che poi si chiamerà viale Gramsci non più viale Principe Amedeo delle masse volumetriche che sono sproporzionate rispetto a quelle che c'erano prima addirittura siamo in presenza degli edifici più alti in tutta la città siamo intorno ai 10-11 piani e degli alberghi che c'erano prima ci è rimasto soltanto l'albergo La Pace e l'hotel dei Cavalieri sul lato destro al posto dell'hotel Milano e Commercio e dell'hotel Vittoria è stata realizzata una palazzina per gli impiegati delle ferrovi dello Stato e poi gli edifici residenziali e anche per abitazioni e per uffici simmetricamente al viale sono stati poi realizzati due corsie per le auto nella struttura che vediamo adesso come sarà in futuro in futuro è in atto una progettazione per cercare di canalizzare il traffico pedonale verso la piazza Vittorio Emanuele senza come dire senza essere suscettibile dell'attraversamento meccanizzato è curioso segnalare alcune difformità rispetto all'assetto anteguerra nella ricostruzione la prima riguarda il ponte di mezzo che non è stato ricostruito nella posizione in cui era originariamente ma leggermente traslato verso valle quindi verso valle di una 7-8 metri circa quindi non è più in asse con Corso Italia e con Borgostretto ma è in asse con le loggie dei banchi e questo per ragioni esclusivamente di natura viabilistica l'altra curiosità riguarda questo porticato in uscita sotto l'amministrazione provinciale che non è più in asse con il porticato di Viale Gramsci l'altro porticato è leggermente spossato di un 7-8 metri anche in questo caso contrariamente a quello che invece si ha nel portico delle poste centrali lì sono in asse questa è una difformità che non era prevista nel piano di recupero nel piano di ricostruzione scusate le ragioni di questo fatto a me non sono note e così Pisa riprende la sua fisionomia con difficoltà ma anche tanto entusiasmo che in quegli anni si respirava allora dal punto di vista della viabilità abbiamo parlato del vigile urbano e di questa copertina meravigliosa del libro che vi riproponiamo adesso se volete guardarla di nuovo prima appunto ci siamo soffermati su questa foto incredibile la befana del vigile urbano ecco a proposito di viabilità come si muovevano i pisani negli anni 50 beh fino all'inizio degli anni 50 c'era la tramvia era il tram elettrico che era entrato in funzione nel 1912 poi negli anni 50 così fu deciso di privilegiare il trasporto su gomma e il tram fu mandato in pensione e sostituito con il filobus che però aveva lo stesso difetto del tram cioè essendo alimentato da una rete aerea non poteva cambiare percorso a seconda delle esigenze o delle emergenze per cui anche il filobus a Pisa durò poco e fu sostituito con gli autobus su gomma come accade e questo si può anche dire che fu negli anni 50 che maturò anche la scelta di eliminare il trammino che era il collegamento tra Pisa e il mare Marina di Pisa e Tirrenia e arrivava fino a Livorno questo famoso trammino che era affollatissimo io ho fatto in tempo a conoscerlo perché ero proprio piccolissimo ancora un ricordo di pomeriggi assolati di un caldo terribile e di mamme e babbi che portavano i figli insieme alle sportine perché si andava al mare con la sporta e la roba da mangiare non si andava al self service non so se c'era ma insomma nessuno ci andava ecco e questo che lo sia stato uno dei grossi errori perché aver tolto il trammino penso che sia stato un enorme errore perché chiaramente tutto si è riversato poi sulla strada e come ognuno di noi sa andare in alcuni momenti a Tirrenia e a Marina diventa un'impresa con il trammino era molto più semplice insomma a proposito ci siamo scordati della Diva delle Dive di Sofia Loren stupenda in una delle immagini una primissima Sofia Loren il primo film di Sofia Loren è stato girato a Tirrenia nel 1953 era intitolato Pellegrini d'amore con Sofia Loren e Enrico Via Risio è stato proprio l'inizio della carriera è l'inizio della sua grande storia d'amore con Carlo Ponti tra l'altro dopo dopo poi Carlo Ponti poi Sofia Loren tornò a Tirrenia negli anni 60 con Carlo Ponti ma questo è l'argomento della prossima mostra quella degli anni 60 la prossima mostra che sarà dedicata per ora ci fermiamo al primo film di Sofia Loren è quello del 53 anche Claudio Villa invece il reuccio di Roma Claudio Villa ma il cinema a Tirrenia nel dopoguerra riprese però non durò molto perché poi Forzano ecco diciamo che i battenti li chiusero in che anni? nel 59 ci fu il fallimento della Forzano e poi subentrò negli anni 60 Ponti e la Loren ma questo se ne parla se ne parla nella prossima mostra nel 2019 riparleremo molto di questo cinema che è che rinasce a Tirrenia con Sofia Loren e Carlo Ponti benissimo è una promessa e quindi le promesse le manteniamo sempre allora noi ringraziamo davvero anche per i sorrisi che ci hanno fatto fare Stefano Renzoni Giuseppe Meucci ricordiamolo che hanno curato questa mostra di Pisani 50 che è all'interno di Palazzo Blu e che proseguirà fino a marzo più o meno poi magari marzo il catalogo l'abbiamo visto questo libro meraviglioso con le foto vi invitiamo naturalmente a venire a vedere la mostra ma a venire a vedere anche l'altra di cui stiamo per parlare e di cui si è parlato molto naturalmente già prima di noi ma che scopriremo da altri aspetti sotto altri aspetti da Magritte a Duchamp 1929 il grande surrealismo tra poco qui alla Pisagnana grazie a voi e ci ritroviamo dopo però aver visto le immagini del nostro grande ristorante della Buca di San Ranieri con il chef Tullio Caola che è lì per noi cara Carlotta mentre sta cuocendo il turbante dorata io preparerò la composizione del piatto con una salsa alla marinara e una mousse di patate alla seppia che verrà messo in questo chat a poche ecco così per fare un contorno bello ed elegante nel frattempo Sadu mi passerà il turbante ecco fatto grazie il turbante viene rovesciato sopra la salsetta ecco fatto con una spruzzatina di pressemolo di contorno questo è il piatto finito ben ritrovati la Pizzaniana ascoltate un elenco breve che vi sto per fare Magritte Duchamp Dalì Max Ernst Man Ray Miró Tanguy Picasso Giacometti De Chirico sono alcuni dei più grandi artisti del Novecento le loro opere sono esposte potete vedere alcune delle loro opere più famose qui a Palazzo Blu a Pisa nella mostra da Magritte Duchamp 1929 il grande surrealismo parliamo naturalmente di uno dei movimenti culturali uno dei movimenti artistici più interessanti più innovativi pensate stavo facendo un calcolo che tra pochi anni siamo a 100 anni dall'inizio di quello che è stato appunto il movimento surrealista prima dadaista che iniziava proprio intorno al 1920 poi si è sviluppato naturalmente nel decennio successivo ma pensate che ancora adesso ci sconvolge che diciamo quelle che sono state gli azzardi le provocazioni di questi grandi intellettuali artisti tuttora forse sarebbero impensabili da tanti artisti odierni che si rifanno a loro ma che non userebbero forse si trovassero nel contesto culturale in cui si trovavano allora questi artisti non riuscirebbero neanche a pensare a elaborare con la loro fantasia le opere che vediamo anche all'interno di questa mostra opere artistiche le più varie dai dipinti alle fotografie alle opere cinematografiche alle sculture insomma una mostra incredibile davvero che arriva dritta dal centre Pompidou di Parigi Allora io qui con noi insieme al presidente della fondazione Palazzo Blu che è restato con noi sin dall'inizio il presidente Cosimo Bracci Torsi voglio ringraziare e voglio accogliere Sergio Tarquinio arrivato apposta da Roma per noi il project manager di Mondo Mostre Schira che naturalmente cura e si occupa della realizzazione delle mostre alcune delle più importanti a livello mondiale grazie di essere qui con noi e ritrovo con piacere anche Dario Moretta della cooperativa Chinzica che invece ha un altro ruolo molto importante quello di seguire gli studenti all'interno dei percorsi espositivi che ci sono qui a Palazzo Blu e quindi questo elemento didattico che è assolutamente importante perché apprezzare l'arte è qualcosa che è davvero interessante ed essenziale fare sin da quando si è molto piccoli e quindi si parlerà anche di questo in questi minuti Presidente due parole però dobbiamo farle insieme subito per iniziare su questa mostra per il decennale avete scelto davvero un grande evento espositivo beh sì oltretutto è un ritorno alla collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi che ci ha portato alla mostra Modigliani e Sesami che è stata la mostra di maggior successo di Palazzo Blu quindi veramente una grandissima mostra e questa è una mostra nella quale viene presentato forse il movimento più dirompente più innovativo della trittura del Novecento in definitiva si vedono gli esiti della guerra alla fine in questo movimento perché si vede proprio una esplosione di modi di espressione un movimento che ha una dichiarazione di estetica che è talmente vaga e talmente libera che permette delle espressioni totalmente diverse difatti sono stati citati una quantità di autori tutti grandissimi e tutti con modi di espressione molto diversi certo oltretutto da questo movimento sono passati tutti i grandi della pittura novecentesca anche Picasso che non è definito come un surrealista ha avuto certamente dei momenti di avvicinamento quindi è una mostra veramente straordinaria completa che presenta questo movimento fondamentale del Novecento con una serie di opere straordinarie provenienti tutte dal Centre Pompidou e allora al nostro Sergio Tarquinio giovanissimo project manager di Mondo Mostreschira chiediamo come è stato possibile realizzare un'opera un'esposizione del genere e soprattutto proprio come è nata come è nato questo percorso insomma portare opere che non erano mai uscite se non sbaglio dal Centre Pompidou prima d'ora sì assolutamente intanto vorrei dire che noi siamo veramente lieti di poter continuare la collaborazione con la fondazione Palazzo Blu come è stato possibile portare una mostra di tale rilievo di tale caratura all'interno appunto della città di Pisa all'interno di Palazzo Blu sicuramente ci ha fatto gioco e la parentesi favorevole che c'è stata tre anni fa con Modigliano e Sesami che è stata veramente acclamata dal pubblico e anche dalla critica e volevamo per il decennale di Palazzo Blu anche dare una svolta a quello che sono i progetti che noi finora abbiamo portato avanti con la fondazione quindi siamo passati da una serie di mostre monografiche a una prima mostra tematica e da questo punto di vista abbiamo già buoni rapporti con il Centre Pompidou ed è stato importante ricordiamo che il Centre Pompidou è forse uno dei maggiori musei che trattano l'arte del Novecento nel mondo e quindi ha detto bene per la prima volta si sono in qualche modo privati di opere della collezione permanente loro per portare una mostra un progetto appositamente pensato per Pisa per Palazzo Blu ecco tra l'altro il direttore aggiunto del Centre Pompidou di Dieu Tinge che è cocuratore della mostra di cui stiamo parlando è anche uno dei massimi esperti a livello mondiale proprio del movimento surrealista e ascoltiamo le sue parole che sono state prese dai microfoni della redazione di 50 Canale proprio all'inaugurazione di questa mostra il Centre Pompidou ha menato una politica di propagazione di queste idee il Centre Pompidou sta avendo e sta promuovendo una politica proprio di espansione a livello planetario questa di Pisa è una mostra che è stata creata come sarebbe stata fatta al Centre e una prima nazionale e internazionale come lo farà al Centre Pompidou Didier Tinge dunque dicevamo il direttore del Centre Pompidou perdonatemi se non l'ho pronunciato nel modo giusto va benissimo meno male meno male che mi approva appunto Sergio Tarquinio di Mondo Mostra e Schira dicevamo facciamo un percorso attraverso le immagini anche che abbiamo del nostro Max Paoli tra le opere più importanti che possiamo vedere in questa mostra che è aperta Presidente fino a quando? fino a metà febbraio fino a 17 febbraio fino a 17 febbraio ecco diciamo i capolavori da non perdere sì vorrei dire intanto che come mostra è una mostra anche diversa dalle altre perché permette di apprezzare i capolavori del surrealismo in maniera olistica non abbiamo soltanto dipinti di straordinaria importanza ma abbiamo anche disegni degli oggetti surrealisti come Giacometti come Calder abbiamo delle foto molto importanti di Merrey per esempio di Boffard e anche delle testimonianze video e dei documenti che testimoniano quello che è la nascita l'ascesa il periodo di crisi del surrealismo attorno al 1929 anno su cui poi si centra tutto il progetto scientifico della mostra curata di Diot-Tanger e quindi penso che sia un percorso nuovo diverso e che possa essere veramente apprezzato dal pubblico e possa portare il pubblico a vedere il surrealismo in un modo diverso come non si è ancora visto in Italia ecco un'altra domanda e poi mi sposto anche sulla parte didattica di questa mostra possiamo dire che Breton appunto è stato il teorico del surrealismo ecco il suo il suo ideale di surrealista era proprio Dalì sì possiamo dire sì Breton è stato come ha detto lei il teorico il padre del surrealismo nel 1924 col primo manifesto poi appunto nel 1929 il rompe nella scena parigina Dalì Dalì con le sue opere col suo pensiero mette proprio in crisi il primo periodo surrealista e da qui poi si arriverà a una prima corretta eccessionista ma poi si arriverà proprio nel 1929 alla fine col secondo manifesto che cercherà di trovare un connubio quindi è stato l'elemento spagnolo a mandare in crisi lo spirito francese forse assolutamente sì allora tornando alla mostra al percorso della mostra agli studenti ai più giovani che devono necessariamente approcciarsi all'arte del novecento perché devono capire appunto che cosa ha prodotto anche nel nostro nel nostro immaginario pop più recente no? insomma da dove prendiamo da dove si prende nella nostra estetica corrente l'abbrivio ecco qui veramente c'è tanto materiale per i giovani ma ci sono anche immagini un po' forti no? ci sono indubbiamente anche delle immagini un po' forti ovviamente noi strutturiamo i percorsi sulla base dell'età e sulla base della convenienza addirittura c'è un vietato ai minori c'è una piccola saletta c'è una piccola saletta ai minori che è assolutamente off limit no vi spieghiamo è praticamente pornografica sono immagini fotografiche che insomma facevano parte di un libello che fu edito proprio per provocare ma anche per far soldi anche per far soldi perché ovviamente si riescono a fare soldi sempre con materiale erotico e sono fatti soldi per finanziare anche altre riviste e quindi fino a che età quella sala è off limits? beh quella sala è off limits fino all'età che decidono gli insegnanti per lo più però tendenzialmente off limits quasi per tutti i ragazzi quasi per tutti i ragazzi quella non si deve quasi per tutti i ragazzi ci sono alcuni accenni al tema dell'eros che comunque è centrale ovviamente nella tematica nella tematica surrealista che con i ragazzi di 16, 17 e 18 anni ecco mi chiedo anche c'è un'altra sala in cui viene proiettato un film arcinoto di Buñuel insieme che appunto realizzò insieme al già citato Dalì in cui c'è una delle immagini che io già conoscevo che è terribile no? l'occhio tagliato è un'immagine assolutamente terribile lo è perché Buñuel e Dalì volevano proprio dare un pugno allo stomaco quando crearono quel film e ci riescono obiettivamente ci riescono benissimo quando ci sono bimbi noi stoppiamo il film perché per evitare che i bimbi siano impressionabili anche se va detto che molto spesso sono più impressionabili gli adulti di quanto non siano i ragazzi di fronte a questa immagine ormai abituati a benaltro forse con i film dell'orrore e altre cose e quindi insomma dicevamo insomma immagino che una dei capolavori più famosi e più conosciuti forse anche dagli studenti sia l'opera appunto rivisitata del grande Leonardo da Vinci ovvero la gioconda con tanto di di Basti e Barbetta di Duchamp la gioconda con i Basti è un perfetto momento di partenza anche perché suscita molta elarità è quello che piace ed è sorprendente vedere con i bimbi soprattutto con i bimbi più piccoli io sono davvero estasiato quando le mie colleghe e i miei colleghi passano anche con i bimbi più piccoli a vedere come si divertano ecco loro riescono probabilmente a cogliere molto meglio dagli adulti lo humor dei surrealisti che è assolutamente fondamentale e la dimensione del gioco che i surrealisti hanno spesso mantenuto all'interno delle loro opere per quello che riguarda i ragazzi un po' più grandi invece quelli che si stanno costruendo la loro identità e che sono nel momento in cui devono decidere personalmente che cosa dare alla società e che cosa mantenere come spazio libero il discorso surrealista si rivolge a loro nel profondo e quindi è molto bello vederli sentire che capiscono che quelle opere parlano direttamente a loro ecco dall'esperienza di Kinzi che ha poco fa il presidente il presidente Vlaci Torsi ci diceva che beh insomma c'è stata la mostra di Escher che ha avuto una grande risposta da parte dei più giovani lei conferma quali sono state a sua memoria appunto le mostre che hanno più incuriosito il pubblico sì io devo dire che confermo la mostra dell'anno scorso è stata partecipatissima d'altra parte Escher apre un mondo di meraviglie davvero davvero sorprendente è vero era stata molto partecipata in realtà anche la mostra di Modigliani è vero che da qualche anno a questa parte abbiamo anche il vantaggio di avere un giovedì universitario in cui gli studenti dell'università possono venire a un prezzo molto scontato che favorisce la partecipazione e questo lo notiamo comunque anche in questa mostra anche con la mostra in corso che cosa dunque dicevamo in che modo poi magari ne riparliamo un momento ma in che modo agite sul fronte della didattica spiegate opera per opera oppure vi limitate soltanto ad alcune sale alcuni alcuni capolavori e non quello che è molto bello fare con la didattica è creare un dialogo creare un dialogo tra noi e i ragazzi sulla base dell'età e ovviamente sulla base delle capacità dei ragazzi anche perché molti arrivano magari senza avere studi di storia dell'arte è vero che però le opere surrealiste permettono di favorire un'interpretazione personale ed è molto bello vedere quanto creino partecipazione giusto di coscienza di coscienza si può dire mi ricordo negli Stati Uniti vidi al MoMA se non sbaglio bambini per terra che potevano disegnare quello che veniva in mente a guardare un quadro fate anche voi cose del genere ecco questo lo facciamo e lo facciamo soprattutto poi nei laboratori didattici percine reale didattiche quello trovo sia molto divertente anche perché tra l'altro ci sono state delle sperimentazioni anche tecniche Sergio ricordava che siamo di fronte a una mostra che ha un florilegio di tecniche veramente incredibile e molte di queste sono alla base dell'espressione dell'arte di tutto il secolo successivo e quindi alcune di queste vengono poi ricercate sulla base dell'età dai bimbi fin dalla scuola dell'infanzia fino ai licei Sergio Tarquinio con Mondo Mostreschira avete in progetto altro non svegliamo i vostri progetti qui con Palazzo Blu ma parliamo di quello che è in corso in Italia in altre città sì con Mondo Mostreschira stiamo lavorando parallelamente su altre città a Bologna per esempio dove abbiamo una bella mostra sui rossi che usai a Milano a Palazzo Reale dove c'è una grande retrospettiva su Picasso e il mito della metamorfosi stiamo lavorando anche a Vicenza con il Settecento Veneto a Firenze alla Garee degli Uffizi con una mostra contemporanea su Seguocian quindi in questo momento siamo attivi su tutto il territorio italiano e anche sul territorio mondiale mi viene da pensare alla Russia mi viene da pensare agli Stati Uniti noi comunque lavoriamo da più di vent'anni portando anche in qualche modo l'Italia nel panorama internazionale grazie dunque in bocca al lupo per il vostro lavoro chiudiamo facendo i nostri migliori auguri da parte della Pisagnana che per il quinto anno consecutivo segue gli esempi gli eventi di Palazzo Blu chiudiamo con gli auguri dunque al Palazzo Blu e alla fondazione di Palazzo Blu per i dieci anni appunto della sua istituzione con però anche un'attenzione particolare a una nuova attività all'interno di Palazzo Blu o perlomeno insomma un'attività che sta prendendo sempre più piede con il presidente Bracci Torsi quella dell'auditorium sì l'auditorium l'auditorium in sostanza è nato come un servizio per gli altri settori di Palazzo Blu e sta gradualmente acquistando una sua personalità autonoma proprio come centro culturale abbiamo cominciato e continuiamo a presentare nell'auditorium una serie di incontri che approfondiscono i temi e ampliano gli orizzonti delle mostre in corso per esempio sulla mostra sul realismo abbiamo avuto Magrelli che ha parlato del movimento surrealista non soltanto nelle arti figurative ma in senso più generale come movimento culturale avremo l'ultimo incontro con Argentieri che invece cercherà di illustrare un aspetto molto particolare cioè i rapporti fra il surrealismo e la psicanalisi che sono dei rapporti francamente molto molto stretti e molto intriganti oltre a questo quindi oltre agli incontri che accompagnano le mostre quelle autunnali come quelle primaverili abbiamo anche organizziamo anche delle serie di incontri per esempio quest'anno in primavera abbiamo avuto una serie di incontri sulle eccellenze pisane eccellenze sia nel campo scientifico che nel campo delle arti abbiamo avuto Osmo e abbiamo avuto il centro Virgo che ricerca i gravitoni le onde gravitazionali quindi cercando di collegare la città un'ultima pennellata che vorrei dare è quello della musica palazzo noi cerchiamo di far sì che palazzo blu sia vivo quindi di attrarre il nostro pubblico e la domenica mattina in particolare facciamo dei matinee di incontri di lezioni concerto di musica che vanno dal jazz che comincerà proprio domenica prossima fino alla musica cosiddetta classica classica perfetto non manca niente del mondo dell'arte e della cultura qua a Palazzo Blu noi andiamo al ristorante però per chiudere andiamo dal nostro Tullio Caola e da Gianfranco Scalpellini ragazzi un saluto com'è venuto il piatto? oltre a questo piatto agli amici del Massey verranno serviti anche dei crostini alla pescatora e poi non solo daremo anche dei tagliudini freschi fatti in casa con vongole e bottarga di mugine e poi per finire un bel dolce un tiramisù alla Pisana e tutto verrà verremo cosa? verremo questo ottimo vino bianco Monte Carlo tenuta del Poggio passami il bicchiere Cialu che andiamo a brindare alle amici della Pisana ora si brinda io a lui e voilà alla Sant'E per finire per finire la serata non poteva non mancare questo ottimo caffè caffè dell'Odorico Odorico dottor Odorico e mentre brindiamo vi aspettiamo tutti alla buca di Saranieri alla Sant'E grazie alla buca di Saranieri chiudiamo questa puntata della Pisana dedicata dunque ai dieci anni della fondazione Palazzo Blu e alle mostre che sono ancora in corso in questo stupendo palazzo sul Lungarno Pisano noi naturalmente auguriamo cento di questi anni alla fondazione Palazzo Blu grazie al Presidente Cosimo Bracci Torsi grazie anche saluto Sergio Tarquinio di Mondo Mostreschira e Dario Moretta della Cooperativa Chinzica grazie a tutti voi di averci seguito al prossimo appuntamento con la Pisaniana buona serata grazie a tutti grazie a tutti